RX 7006 o RTX 4060. Tutte e due schede valide per il Full HD, con un costo che si aggira intorno ai 300€, ma andiamo a capire quale delle due schede vale la pena acquistare, puntare alla 4060 o sulla 7600. Oggi con un sacco di test in Full HD, Full HD, Retracing attivo, giochi competitivi, Fortnite, MF3, insomma un sacco di test, cercheremo di capirlo, ma maggiori dettagli a riguardo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e con un'introduzione, oggi torniamo a parlare di schede video, due schede video super interessanti, l'RTX 4060 e l'RX 7006. Volevo parlarvi anche in questo video della A750, che vedete lì, sta anche sulla test bench perché sto completando i test, e A580, che ho in realtà di quella ho anche a fine di test, ma preferisco farvi un contenuto separato perché ci stanno un po' di cose da dire, qualcosa dirò anche in questo video, però sappiate che le Intel Arc, sì, sono della partita, ma ci stanno un po' di cose a dire. Per quanto riguarda la 4060 e la 7600 che vedete qui e che abbiamo utilizzato nei test, Sapphire e Palit. Sapphire ovviamente la 7600, ottima custom, la Palit invece è una custom più economica, ma questo non impatta le performance, anche perché ragazzi, poi vedremo, sta custom va benissimo per un'RTX 4060. 300€ l'RTX, 2,70€ la Sapphire, me l'ha prestata S-Shop ragazzi, quindi se volete acquistarla le trovate lì, questi sono i prezzi che hanno loro. Oltretutto vi lascio il solito coupon di sconto, SDR2X3 in questo caso, perché ogni video insomma cerchiamo di cambiarlo. Diciamo che sono schede interessanti per il Full HD ovviamente, e per la fascia di prezzo a 300€ sul nuovo questo potete optare. Certo, la 7600 va come la 6650XT, poco di più, e uno dice cavolo costava 250€, costa 250€ tra l'altro oggi, questa costa 2,70€. Sì, ma ha una nuova architettura, ha dei vantaggi sui titoli un po' più recenti come magari Avatar, oppure ecco, dove ci sta Nanite, quindi non lo so, tipo Fortnite. Diciamo che adesso andiamo a vedere poi, nello specifico nei test, come va. In primis, ovviamente, vi invito a iscrivervi al canale ragazzi, bottoncione rosso e gratuito lo trovate qui sotto, like, commentino, fatemi sapere cosa ne pensate, le opinioni che tiro fuori, ma anche dei test che vi porto, e ci saranno tanti giochi in Full HD, in Quad HD, quindi fatemi sapere che ne pensate, anche sulla scelta e le opinioni che tiro fuori su ste schede. Vi ho detto tutto, mi pare il caso di attaccare, parliamo prima delle caratteristiche delle due schede, perché sennò di che stiamo a parlare. RX 7006, uscita a maggio 2023, già è passato un anno, cavolo, e anzi ragazzi, passerà un altro po' anche, perché considerate che le nuove schede video si arriveranno magari a fine anno delle nuove gen di AMD, Nvidia, ma questa medio gamma la troveremo, penso, a maggio 2025, quindi c'è ancora un anno da quando sto pubblicando questo video. MSRP erano 269 dollari a maggio e più o meno il prezzo è rimasto quello, e erano arrivati a 2,90 in euro, ma ecco, 2,70 oggi. Si trovano GPU Navi 33XL RDNA3 come architettura, però qui abbiamo un 6,9 TSMC normale, monolitico. 32 CU, gli stessi della 6350 XT, e infatti però in 3 formats non è che andiamo tanto lontano, nuova architettura, ma effettivamente non è che lavora tanto meglio. 8 GB a 128 bit, belle castrate a 288 GB per secondo per quanto riguarda il bandwidth. TDP 165 Watt, che però per la custom, la Sapphire Pulse, che adesso vi parlo anche in breve di quella, arriva a 185, quindi un po' più alzato, perché è una overclock. Vi ricordo che le custom overclock alla fine ne è chissà che so, semplicemente fanno un piccolo overclock di fabbrica, che potrei fare tranquillamente anche sulle altre schede a manella pagandole qualcosina di meno. La custom appunto è una Sapphire Pulse, che sono quelle custom super carine secondo me, in termini estetici, con le linee rosse che danno sempre un po' di sport, no? Un po' come il rosso che viene utilizzato sulle macchine sportive, una cosa del genere. E dimensioni ovviamente molto compatta, 240 x 107 x 44, in termini di temperatura 63-67 gradi sul GPU core, quindi ho visto anche una settantina di gradi, ma ho visto anche 63, quindi dipende tanto dal titolo. Queste temperature per esempio le ho viste in Cyberpunk, comunque tira 180 Watt, quindi la spreme ad hoc su quel gioco. Ed effettivamente comunque è una custom super positiva. La parte dell'evento è ovviamente in plastica, ma dietro il backplate è in alluminio e voi dite, beh, che c'è stato in strano? Beh, parleremo poi della pallet, effettivamente quella è tutta plastica. Parlando della RTX 4060, MSRP 299 dollari, prezzo medio qui in Italia 320-330 euro, poi dipende dalle custom, ma ragazzi è una scheda che se prendete una custom troppo costosa state proprio sbagliando strada. GPU AD 107, 599 TV SMC che se vuoi fare 120 Watt sta facendo davvero tanto. 8 GB di RAM, 128 bit anche qui, quindi quelle belle castrate, 272 GB per second di bandwidth e per quanto riguarda i consumi, già ve l'ho detto, circa 120 Watt, 115 TDP per l'esattezza. Tutte e due le schede sono su Pitch Express 4.0 ma 8 linee. Per quanto riguarda la custom, qui abbiamo detto una pallet dual, che se la vediamo identica spiccicata alla KFA2 che ho portato qui sul canale, che è una 4070 Super, quindi pensate a quel dissipatore, cioè se bastava lì, figuratevi su una 4060. Diciamo che non è che bastava più di tanto sulla 4070 Super, le temperature, soprattutto in hotspot, non erano fantastiche. Qui però stiamo, no, tranquilli, di più, cioè una scheda che non consuma proprio niente. Custom full plastica, sia sopra sulle ventole, sia sotto e nel backplate, però termini estetici con queste texture un po' particolari sopra, diciamo che ci sta. È bella piazzata in termini di larghezza, comunque è 249x123x40, misure normalissime, comunque super compatta. Queste le due schede le abbiamo un attimo viste velocemente, ora parliamo un attimo di test, facciamo tanti test e poi alla fine parliamo anche di opinioni, commenti vari. E nei test non vedete l'A750 né l'A580 che vi ho citato nell'introduzione, però ogni tanto magari ve la cito per darvi un'idea. Test Bench, ragazzi, dove ho testato queste schede e ve dico, visto che andiamo a testare anche il Full HD, un po' di FPS di vantaggio, magari se li prende anche per quello. 7800x3D con B750 Gaming X AX con VDR5 ovviamente, 6000 CL36. Il resto diciamo che non è importante saperlo, alimentatore eccetera. E per quanto riguarda i giochi, 12 giochi misti. Giochi che vanno meglio su AMD, altri che vanno meglio su Nvidia. Soprattutto giochi recenti e non. Così abbiamo un quadro generale, cioè ci sta Avatar come ci sta Borderlands 3, Cyberpunk, poi Assassin's Creed Valhalla, Formula 1 2022, MV3, Fortnite, insomma. Tutti i giochi che possono interessarvi e li testeremo tutti a dettagli ultra, senza upscaler, quindi niente di LSS o FSR. Poi lo citeremo durante. I test con i retracing perché li vediamo anche come si comportano con quelli attivi. Poi ci saranno test in competitivo, quindi dettagli bassi, in Full HD ovviamente, e ci saranno MV3 e Fortnite come titoli. Questo è il preambolo sui test. Niente, attacchiamo più che altro, vedendo subito in Full HD e in Quad HD, quale sono le medie su questi 12 titoli, che vi ho detto alcuni, ma insomma poi nei grafici li vedete tutti. In Full HD ci fa una media a tutte e due le schede di 110 FPS, sembra che si sono messe d'accordo ragazzi, vanno uguali su questi 12 titoli, poi ovvio cambiando i giochi magari può cambiare qualcosa, ma sono schede che in Full HD pressoché vanno uguali. Anche il percentile, quindi in termini di stabilità, di qualità del gioco, perché poi si è bello vedere gli FPS, ma già dal percentile, nonché magari dal grafico e dal frame time si riesce a capire proprio ad apprezzare come giocare con queste schede. Per quanto riguarda il Quad HD, non arriviamo ai 100 FPS ovviamente, ne facciamo 110 in Full HD di media, in Quad HD facciamo più o meno un'ottantina, qualcosa di meno. 77 per quanto riguarda la 7600, 75 per la 4060. Anche qui, percentile allineati, un paio di FPS in più di media, non sono davvero nulla. Schede pressoché uguali. Vi dico subito anche la media in Full HD, non mi sono messo a testarla in Retracing in Quad HD perché già in Full HD ste schede fanno fatica e poi ne parliamo meglio perché sta questione di retracing su schede di questo budget va un attimo argomentata. Diciamo che la media qui è a favore della 4060. La 7600 ci fa 36 FPS di media, 42 sulla 4060, quindi di media un 17% più veloce la 4060 rispetto alla 7600. Ma su Retracing diciamo che nessuno pensava che andavano uguali. Però abbiamo visto i rastre che le due schede vanno presso che uguali. Vi ricordo i costi delle due schede perché questi, diciamo, performance medie, 270 euro della 7600 e 300 della 4060. Quindi effettivamente costano una 10% in più dell'altra, ok? La 7600 di per sé costa un 10% di meno. Con i prezzi di SSShop e vi ricordo che c'è anche il coupon di sconto. Queste le medie, ragazzi, mo vi dico in Full HD dove va a vantaggio di AMD e dove abbiamo vantaggio su Nvidia. I titoli che non vi citerò vuol dire che stanno sotto al 10% di differenza, non 3, 4, 5, quindi praticamente vanno uguale o addirittura proprio lo zero. E vi dico, MV3 mi aspettavo per esempio che andava di più su AMD, invece in dettagli ultra vanno uguali le due schede, 110 fps per esempio in Full HD. Ma tornando a dov'è che va meglio AMD rispetto a Nvidia? Cyberpunk, 10% in più e sembra poco Cyberpunk AMD. Proprio ho detto no, gli tocca farla andare bene. Cyberpunk, vi dico, non Liberty City, quindi la vecchia versione. Shadow of the Tomb Raider, più 10% anche qui, quindi AMD va a vantaggio sui titoli che teoricamente sono specifici di Nvidia. E Borderlands 3, più 10%, questo l'avevamo già annotato anche con le schede di fascia più alta. Per quanto riguarda invece i titoli in cui va di più Nvidia, ovviamente Fortnite ragazzi, più 17%, quindi a parità di budget se dov'è gioca solo a Fortnite, già avete capito su quale scheda viare. Più 15% su Avatar, e qui vediamo come l'architettura di AMD fa fatica sulle nuove tecnologie, e anzi la 7600 recupera rispetto alla 6350 XT. Formula 2022, che non è un titolo che anzi è quello che falsa è la media delle FPS, più 10% su Nvidia. Tutti i giochi non citati effettivamente vanno pressoché uguali, o comunque c'è una differenza minore del 10%, magari un 5, 6, 7, ma nella maggior parte dei casi in realtà vanno proprio uguali. Ora passiamo ai giochi a dettagli competitivi, perché ve l'ho citati, MV3 e Fortnite ve l'ho provati anche a dettagli bassi così sapete se volete giocare appunto a dettagli competitivi su questi giochi quanti FPS vi fanno. Full HD vi faccio vedere anche al volo i dettagli sia che ho scelto su Call of Duty, MV3, sia su Fortnite. Sono i soliti che utilizzo io, poi vedete un po' voi, e come impostarli. Comunque sempre risoluzione al 100%, niente F6 o altro, io di solito tengo comunque la risoluzione diciamo nativa, ovvero Full HD. MV3 vi fa con la 4060, 170 FPS in Full HD, 194 con la 7600, quindi più un 15% con questa situazione, quindi dettagli competitivi. Fortnite facciamo 292 FPS, con i dettagli che poi vedete a schermo, 292 FPS con la 7600, 360 con la 4060. Bisogna fare una premessa, in queste situazioni tra virgolette CPU bound del 7800 X3D aiuta parecchio, quindi se prendete queste schede non ci avete un 7800 X3D, quindi sicuramente farete meno FPS. Era giusto citarla come cosa, però ecco, gli FPS sono tanti e comunque vediamo che nel titolo in cui di solito AMD va meglio, la 7600 va meglio, se no va meglio la 4060 per esempio su Fortnite. Qua perché ci sono i titoli che vanno a vantaggio di uno e a vantaggio nell'altro. Esti due giochi, purtroppo, se siete giocatori di entrambi dovete fare una scelta su quello che giocate di più. Se giocate a Fortnite, la 4060 è sicuramente una scelta migliore. Parlando di test sintetici non ve l'ho detto, ma ecco, diciamo anche al volo un po' di benchmark, ok? I 3DMark, quindi Time Spy, Fire Strike e Port Royale. Più che altro tanto per dirveli, la 7600 di media va di più della 4060, un 7% in più su Time Spy, più un 17% su Fire Strike, ma in Direx11 sappiamo che di solito AMD lavora meglio, soprattutto su quel tester. Port Royale un meno 3%. In realtà è un po' di più, ragazzi, abbiamo visto in giochi reali, c'è almeno un 15% di differenza tra la 7600 e la 4060 in retracing attivo, poi dipende, Far Cry 6 per esempio vanno uguali, ma sappiamo che Far Cry è un titolo prettamente AMD. Non vi ho citato DLSS 3, FSR, DLSS è come dopo i test sintetici, nonché i test diciamo generali, vi voglio prendere un esempio che è Cyberpunk, ok? In cui ho testato con retracing attivo, senza, e poi quando ho attivato retracing ho fatto anche test con DLSS, FSR e anche DLSS 3. Qual è la somma, ragazzi, che quando attivate l'FSR e il DLSS le due schede non è che cambia tanto il vantaggio che avevano e quando erano i raster mantiene lo stesso? Ovvio ragazzi, in Full HD il DLSS spacca rispetto all'FSR, continuo a vedere difetti, tra virgolette, su queste tecnologie, a questa risoluzione, ma sicuramente l'DLSS lavora meglio. DLSS 3 fa un 40% in più di come stava con il DLSS e vi ricordo che due d'avere perlomeno 60 FPS e il buon Cyberpunk per esempio con retracing attivo li fa col DLSS 3 e fa fatica invece con l'FSR, quindi poi col DLSS 3 andiamo ai 90 e passa. Interessante la tecnologia del DLSS 3, sicuramente un punto a favore, però ecco, questo è come si comportano, ho preso Cyberpunk come titolo, ma poi ho testato anche gli altri. Quello è più o meno in Full HD il DLSS ha un vantaggio proprio tecnico, ok? E volevo citarvelo perché poi spesso sono me dite, eh ma non parli per niente del DLSS, FSR ve l'ho portati. Qui anche qualche test, più che altro per l'FSR e il DLSS con il retracid attivo per farvi capire che comunque in Full HD anche con quegli attivi spesso fa fatica a stare sui 60. Diciamo che la 40-60 invece più o meno ce la fa e abbiamo anche il DLSS 3 dove c'è sta. Prima mi dite, ah ma vi ho detto e facevo una piccola citazione all'Intel H, non avete parlato praticamente mai durante il video. Ecco, ve le cito adesso visto che siamo poco prima delle conclusioni. La Intel H750 è una scheda che va come queste due schede 40-60 e 7006, ma anche la A580 ragazzi non è così lontana dalla A750, ma ripeto, poi ne parliamo meglio durante il contesto del video della A580. Vi voglio però dire che il problema dell'Intel ad oggi è che ci sono giochi che vanno bene e giochi che vanno male. Vi faccio l'esempio, se prendete un Cyberpunk, la A750 va come la 40-60 che fa 78 fps in Full HD, ne fa 75 la A750, ma anche con retracing attivo va di più della 7600, c'è un retracing molto performante per essere, a virgolette, una gen indietro, no? Il vero problema è un cap di questa scheda perché ecco, lo piazzate su Fortnite, vi fa pochissimi fps la A750 e vedete anche i consumi che su Cyberpunk fa 180 Watt, 190, quando la mette su Fortnite ne fa 120. Perché? Perché i driver hanno qualcosa che non quadrano. Avatar, ok? Un titolone. Prendete la A750 e vi fa un 35% di meno della 40-60. Quando su Cyberpunk va uguale? Non è spiegabile sta cosa se non che i driver. Non sono stabili, non stabili in termini di stabilità che crasha, ma proprio che su un gioco va bene e su un gioco vanno male. Test sintetici, la A750 per esempio, va di più e non di poco della 40-60 a 7600 perché sono ben ottimizzati in quel ruolo. Infatti la scheda fa i suoi 200 Watt. Già su Cyberpunk non è a pieno regime. Una A580, tanto per citarla al volo, dei test sintetici va come una 40-60 e una 7600. Poco poco meno. Poi in realtà in gaming prende una bella pezzetta. Non troppo, però ecco, nella media prende parecchio. Poi in realtà magari prendi Cyberpunk e il gioco GIA quasi uguale. Questo è proprio una delle Intel Arcade oggi. Driver che rendono poco o tanto a dispetto dei vari giochi che vai a piazzare. Questo è il problema di fondo. Per cui ho preferito non parlarne qui, vi faccio questa piccola citazione. Poi vi invito a iscrivervi al canale e vedere il video della A580 che uscirà, credo, settimana prossima ci sarà la A580 a 7.50 e ripescheremo anche i test di queste due schede. Che dirvi ragazzi? Tante tante chiacchie, un sacco di test. Spero di avervi dato un quadro di come vanno le schede e adesso vi dirò le mie opinioni e conclusioni per dirvi o compra la 4060, compra la 7600, non compra nessuna scheda. Vi dico a monte, se avete questo budget a 300 euro, valutate schede video usate ragazzi, ma non per qualcosa. Queste schede sono comunque valide. Continuo a costicchiare un po' troppo dal mio punto di vista perché, ricordiamo, 6650XT non è tanto lontana. Vi costa 250 euro e costava 300 euro due anni fa. Le performance sono rimaste le stesse e i costi sono anche rimasti gli stessi. 4060 non raggiunge manco le performance della 3060 Ti eppure costa 330 euro di media. In realtà, poi questa custom per se shop la potete prendere a sotto di 300 euro. In realtà ci sta anche la monoventola degli Inno 3D, mi pare che costa 2,90 euro. Però ecco, è una scheda che più di 300 euro non ne vale la pena. Ovvio, se dovete andare sul nuovo e dovete comprare una scheda video, queste due soluzioni personalmente opterei per la 4060. Performance e raster vanno uguali, vi costa sì un 10% in più della 7600. Al solito un 15% in più di media in retracing, che fa comodo. Vi ho fatto vedere come il DLSS 3, per esempio, su Cyberpunk vi permette, visto che fate i 60 fps con il DLSS attivo in retracing, di raggiungere anche la novantina, quindi una bella fluidità. Certo, AMD c'è l'FSR, ci stanno le mod dell'FSR, quindi potete anche caricare quelle. Sì, io ho valutato quello, diciamo, di fabbrica, quindi Cyberpunk ce l'ha, di Swolf, in generatore di NVIDIA. Potete fare una mod per l'FSR, ma ci sono anche altri titoli. Sono pochi però dove c'è il DLSS 3, quindi non lo vedo come un punto di forza, ok? Il retracing anche potrebbe essere un punto di forza, come no. E vi ho fatto vedere come, senza DLSS, boh, non è che in Full HD è andata sempre a 60 fps. Sia in uno che nell'altro caso, quindi un vantaggio fine a se stesso, secondo me. Quindi effettivamente la 7600 si costa un 10% in meno, c'avete un 15% in meno il retracing, però raga, performance alla fine se la cavicchia. In termini di stabilità, quindi anche di frame time, di grafico, di percentile, siamo lì. Ogni suo AMD, ormai, non esistono lato driver. Effettivamente le due schede sono molto equiparabili. Ovvio che se devo spendere un 10% in più, non so, i 30 euro su 1000 euro del budget che ti rovino la questione. E c'hai comunque una scheda NVIDIA che, tra virgolette, oltre al 15% in più il retracing, ti dà vantaggi anche lato produttività. Metti se devi streama. NVIDIA ti permette di perdere molti meno FPS se streami dallo stesso PC, per la sua suite, per cose che adesso non voglio entrare troppo in merito, però sappiate che è così. Idem, e se dovete magari montare un video e renderizzare qualcosa, piccole cose in 3D. AMD c'ha sempre una piccola pecca da quel punto di vista. E invece le Intel Arc potrebbero avere un vantaggio, perché le Intel Arc, soprattutto se abbinate a un processore Intel, da quel punto di vista, in termini lavorativi, lavorano molto bene. Meglio della 4060. Però poi in gaming abbiamo detto prima, velocemente, quali sono i difetti. Io a 300 euro opterei per la 4060. Spero che scenda un altro po', e anzi, potete prendere pure una monoventola, avete visto che in termini di temperatura questa scheda non scalda un cavolo, con una custom sì che non è manco un granché, visto che è tutta plastica. Quindi, morale della favola, io viverei sulla 4060. Anzi, ve dirò. Se c'avete la possibilità di valutare qualcosa sull'usato, potreste anche valutare qualcosa del genere, tipo anche la 3060 Ti a 220-230 euro, girando in giro, se vede. Però sul nuovo, queste sono le opzioni, e io valuterei più la 4060. Se il budget è più o meno lo stesso, le performance sono quelle, cioè qua ragazzi, la media negli FPS in Full HD e Quad HD Raster, stavolì, non è questione come era la 7800 XT e 4070. Costa di meno e addirittura fa anche un 10-15% in più. Eh, qua costa di meno, ma vanno uguali, e la percentuale di differenza del prezzo non è che sia tutto sto che. Fatemi sapere ne pensate nei commenti, e iscrivetevi se volete vedere il confronto con queste schede, con le Interac A580 e A750. Detto questo, ragazzi, vi ho detto un sacco di cose, vedete un po' voi quello che volete fare, e siamo arrivati ai saluti. Quindi un salutino al vostro Davide, al piccolo baby Voto con la testa fruttuante, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!